Jane Alexander si è sentita male, ecco cosa è successo all'ex Teffina L'attrice dopo l'uscita dal GF VIP 3 sta attraversando un brutto periodo. Dopo essere stata eliminata dalla casa del grande fratello VIP 3 Jane Alexander è sparita nel nulla. L'attrice non si è presentata in nessuna trasmissione e non ha nemmeno rilasciato interviste. I telespettatori del reality show sono curiosi di sapere che fine ha fatto la donna e come procede la frequentazione con l'ex velino di striscia La Notizia Elia Fongaro. Alcune ore fa, però, la donna ha avuto un duro sfogo sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere cosa ha detto. Lo sfogo di Jane Alexander su Instagram. Piove. Sono per strada senza ombrello e no, non è una pioggia forte ma la giornata uggiosa mi si addice, in parte. Dico in parte perché di cose belle ce ne sono tante, e sorrido come una scema senza motivo. Ha scritto Jane Alexander su Instagram. Quest'ultima, inoltre, ha affermato che fa fatica a piangere e piange spesso. A quanto pare l'ex Stefina sta male per quello che sta affrontando dopo l'uscita dalla casa di Cinecittà Ricordiamo che la donna ha iniziato una relazione con Elia nonostante fosse ancora fidanzata fuori. Jane Alexander, Elia o Gianmarco? Stando ad alcune indiscrezioni, nonostante Jane Alexander sia uscita dal grande fratello Vip3 non si sarebbe incontrata col fidanzato Gianmarco. Non è tornata a casa. Ci siamo sentiti al telefono 5 minuti venerdì mi ha chiesto altri giorni per pensare e. Ha dichiarato il ragazzo qualche giorno fa nel salotto di Barbara D'Urso. Non ci resta che aspettare per capire che decisioni prenderà l'attrice.